Sarà il sogno di Ajace a coinvolgere il pubblico presente al Parco archeologico Palmintelli venerdì 19 agosto. Proseguono infatti, dopo Clite e Nestra verso Sifigenia, gli appuntamenti di quest'anno dei teatri di Pietra nella cittadina nissena. Sul palco salirà l'attrice Viola Graziosi, che guidata dalla regia di Graziano Piazza, sarà la protagonista dell'Ajace di Rizzos. La tragedia di Sofocle, riletta dal poeta in un'opera scritta nella seconda metà degli anni Sessanta. E la voce di una donna, probabilmente un miraggio, una proiezione che racconta e ripercorre la storia di Ajace. A lui, che non si era giudicato le armi di Achille dopo la sua morte, si fa riferimento nell'opera. Dalla gloria alla tragedia, passando però dal desiderio di vendetta nei confronti degli Achei, anche se in realtà essendo stato accecato da Atena, si consuma nei confronti di alcuni animali facendo strage di Greggi. E dunque la vergogna una volta tornata in sé. Si snocciola così la storia di un dramma interiore, portando in scena una visione contemporanea. La voce femminile dunque rivive il dolore e le azioni di Ajace, acquisendone quasi l'aspetto. Qualche giorno dopo, e cioè il 21 agosto, si accenderanno nuovamente i riflettori sul palco del Parco archeologico Palmintelli, con lo spettacolo passato presente Pasolini.